Ciao ragazzi, questo video è un piccolo esperimento perché sto utilizzando un microfono a condensatore solitamente adatto per cantare o per parlare in modo normale però volevo provare a fare un video ASMR con questo microfono giusto perché sono curiosa di sentire cosa ne viene fuori ho pensato di mangiare con voi una caramella alpenlip è da una vita che non ne mangio una mi dispiace se con questo microfono sentirete le P magari troppo, con troppa aria ecco perché non ho un antipop caramella al miele era da una vita che non ne mangiavo una non ne sono mai andata matta però questo momento visto che mi andava qualcosa di dolce piuttosto che buttarmi sul cioccolato e incamerarlo poi nelle chiappe ho scelto una caramella che è dolce ma non è con lo zucchero perché senza zucchero almeno così dovrebbe essere oggi è una giornata un po' strana perché non mi ricordo se in qualche video vi ho parlato della mia esperienza con con l'ansia in ogni caso sappiate che ho anche un altro canale che si chiama Vlog Inside in cui ho parlato diversi video dei miei problemi d'ansia ecco nonostante abbia ormai imparato a conviverci abbastanza ci sono dei periodi che sto proprio di merda scusate il termine periodi in cui mi vengono ansie assurde meno male però esiste l'SMR perché mi aiuta veramente tantissimo a guardare i video e dicevo oggi una giornata strana perché mi sono svegliato un po' così con l'ansia un'ansia apparentemente non non motivata sinceramente quindi ho a pranzo ho mangiato solamente un pacchetto di crackers e io ho bevuto giusto un po' di succo di frutta per darmi un po' di vitamina e energia avevo mal di stomaco perché quando l'ansia mi viene di tutto mal di stomaco, diarrea, nausea una rottura di palle quest'ansia perché si somatizza e quindi niente ho mangiato pochissimo quindi ora mi andavo di mangiare qualcosa e intanto ho visto che sono solo in casa provare a fare un video con questo microfono sicuramente l'olio sarà di qualità però non verrà perfetto come quello del dittafono se mi vedete guardare cioè non sto guardando in aria sto guardando il monitor del computer per vedere i picchi diciamo delle onde della registrazione audio potrei srozzarmi potrei srozzarmi ok sono viva insomma questo qui voleva giusto essere un un videotest diciamo così di questo microfono ora sentirò poi in cuffia che cosa è venuto fuori sincronizzerò l'audio con il video e caricherò poi il video su youtube spero comunque di avervi tenuto anche se pochissimo 6 minuti di compagnia vi mando un bacio fatemi sapere se vi piace il risultato così in futuro posso considerare di riutilizzare questo microfono colgo l'occasione per ringraziarvi sempre di tutti i vostri commenti vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao